Amici di Mitico Channel, buon calcio a tutti. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo, dopo dei risultati buoni, però allo stesso tempo un po' contraddittori, per sotto alcuni aspetti un po' deludenti. Quando magari ci aspettavamo il botto del Foggia, invece puntualmente il botto non arriva mai, come è successo a Cesena. E dispiace, perché di fronte ad oltre 4.000 tifosi del Foggia, che erano giunti in quel di Cesena entusiasti, non vingere lì è stato veramente un pugno allo stomaco, una cosa brutta, quando poi il Foggia aveva stradominato l'intera partita. Però questo è il Foggia, è inutile starci a recriminare più di tanto, perché dici partiti ormai hanno sicuramente segnato quella che è la storia attuale del Foggia Calcio, una squadra che prende mediamente almeno due reti a partita, diciamo 2,4, e quindi questi sono numeri impressionanti, anche se purtroppo dettati da due partite in particolare, quella col Pescara e con Lavellino, che da sole hanno fruttato ben dieci reti incassate, di rastroppa. Però comunque il Foggia i gol li prende, inutile starci a rammentare, e ancora non si trova la medicina giusta per evitare di prendere tanti gol, anche stupidi, perché prendere tre gol a Cesena a quella maniera fa molto male, molto molto male e delude tantissimo. Io ripeto, io griderò vittoria quando finalmente vedremo una partita terminata con zero reti incassate, anche un pareggio, però una partita che finisce almeno senza una rete incassata. Ragazzi, qua la cosa è brutta, perché così l'attacco non potrà sempre fare più di due, tre gol a partita, è pazzesco. Il Foggia non ha questa possibilità di poterlo continuare a fare. Quando si fermerà l'attacco del Foggia e prenderemo comunque quelle due o tre reti a partita, qua le cose si mettono estremamente male. Fermo restando che abbiamo l'ennesima prova ancora, l'ennesimo test col Parma di stasera, che ci può far cambiare la storia del Foggia, perché vingendo stasera forse si riesce a cambiare strada, si riesce finalmente a trovare un rimedio. Io sono ottimista per stasera. Secondo me il Foggia ce la potrebbe fare, ce la potrebbe fare anche se è una squadra difficilissima. Il Parma è una squadra con un centravanti che forse ha cercato anche il Foggia, vale a dire Calaio. È una squadra forte, quindi sarà una bellissima partita. Ci saranno sempre gli 11-12 mila spettatori allo Zaccheria, caldissimi. E quindi ancora una volta forza Foggia, amici. Buon calcio a tutti, specialmente agli amici di Mitico Channel. Ciao.